Ok ragazzi, ciao a tutti ragazzi, oggi siamo in un video regali Iniziamo! Allora, teoricamente io ho fatto fare una fila per fargli, cioè per farmi dare i regali Non si supera, esatto, tutti dietro L perché me lo segno Allora, Eleita, Eleita cosa decide di regalarmi? Cosa, allora, preciso, questo video è stato scelto dai fan Quindi io non c'entro assolutamente nulla Oh che belli quando si mettono tutti in fila, wow Adoro Perfetto Eleita è andata, quindi via via Eleita che devi fare spazio a tutti gli altri Ok Caterina Cate Vabbè, fan di Asia, insomma lei Caterina, grazie, lei mi ha fatto il give item, quindi grazie Caterina mi ha regalato No Grazie Fan di Asia, Maria Ciao a te ti voglio Bene, anche io ragazzi me ne voglio a voi più di quanto voi potete immaginare Ciao Ehm Il regalo Allora, ciao Ciao anche a te Però qua siamo Allora, vediamo se Uh Grazie Grazie Leviamo questo pet Perché se non comincia a fare le cose Mi chiamo Miriam Ciao Miriam Vi ho ciò Eh, non incomincio a superare Che io lo vedo che si supera Eh Eh Ah, lei mi sta dando accessori per i pet Va bene Ben accettati Ah, è anche un pet Benissimo Eh Ah no Ancora si continua Ok Perfetto Grazie anche a Vio A Vio Viocio Non so come ti chiami Penso Viola comunque Ed educo sempre che tu ti chiami Viola Se non ti chiami Viola Fammi sapere come ti chiami Ma mi viene in mente Viola Quindi Oddio Marghi mi fa un trade Com'è? Ha scritto Mi chiamo Viola Oh Sono troppo brava ragazzi Allora La fila Sta procedendo bene Bene Mi piace Mi piace questa cosa Che sono tutti belli messi in fila Vorrei fare pure uno screen Ma non mi lascia nel tempo Perché subito mi fanno Il trade Questo video sarà molto lungo Ho questo presentimento Però Dettagli Ok It's Asia Gamer It's Asia Gamer Mi regala un palloncino Due palloncini A forma di Joystick Un triciclo Una bici No la bici l'ha tolta Alla rimessa Tra l'altro abbiamo lo stesso nome Quindi ciao Asia Grazie Asia Ripeto ragazzi Anche questi semplici regali Come questi qua di Asia A me fanno un sacco piacere Quindi grazie 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 in tutti i casi Io vi dico grazie se mi regalate Il nulla E vi dico grazie se mi regalate Il frost dragon Anche E la cosa si sta Dislineando Spero ti piaccia Certo che mi piace Tranquilla A me piace tutto quello che voi fate Mi piace come vi comportate Mi piacete voi Quindi tranquilla Allora Picchio secco leva il trade Va bene Ah no Renacchio scusate No Vioccio già l'ha fatto No 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 Vioccio già l'ha fatto No 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 Giulia la pizza invece no Io chiaramente ragazzi Pretendo Che Lo facciate solo una volta Perché capisco quanto sia Cioè quanto siate gasate Però A Giulia la pizza Ha declinato Giulia la pizza Mi rimanda il trade Tra l'altro Giulia la pizza Hai tutto il mio orgoglio Per il nome Cos'è che scrivo in chat Se l'ho dato prima il regalo Ah è vero Esatto Giulia la pizza Sai Decidere Allora Un ox Speriamo che almeno questo Me lo dia Ok L'oxer Se no l'oxer L'ox Forse Me lo da Già un passo avanti Ciao Ti voglio tanto bene Ti posso regalare un petto Dinosauro di rarità Di rarità Ultra Si trova nel Ovo vecchio Spero ti piaccia Grazie tesoro Sei tu super cute Ti voglio bene Certo Vai Regala Tutto quello Che vuoi Certo Viva Certo Ah Aiuto C'è il mio cane Che mi tira i capelli Scusatemi Grazie Grazie Guzzolo E a me Come al solito Niente Grazie Ti voglio bene Ciao Anche ti voglio tantissimo Bene Tieni questo per te Cos'è? Non Non capisco Cos'è? Cos'è? Un buffalo per Asia Grazie ragazzi Adesso però E Ragazzi La fila Ragazzi La fila La fila La fila Ciao Ma sta scherzando Spero No 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 Aiuto Mi sento No Devo offrire per forza Qua Cioè Offro qualche pet Perché comunque Sono regali Che mi state facendo voi Però Qualcosa Qualcosa la devo mettere Perché se no Mi sento veramente Troppo in colpa Cioè Non va bene Questa cosa Io non Volevo ricevere Questi Questi pet Non avevo considerato Tutto Bene No Si Forza Accetta Muoviti Io Cioè Grazie Mi mancavamo Della colazione Dei toys Ah vabbè Qualcuno ha regalato Qualcosa a qualcuno Vabbè Comunque Fino a quando è questo Mi sta bene Io Robertina Ti giuro Io ti mando Un bacione Grande Quanto una casa Perché Sei veramente Parte del mio cuore Da oggi in poi Cioè Sei sicura? Oddio Grazie Piccola Piccola Ti amo Allora Noa Se non dobbiamo Tenerli Con te Grazie Piccola Vabbè Ti adoro Ti adoro Abbiamo Sofimilli Ciao Sei la mia idola E questo è per te Grazie Con tutti i complimenti Perché siete veramente Fantastupendi Tuoi pupazzo di neve Grazie Guccola Bellissimo Anche questo Poi Abbiamo Yoshi Sì Certo Che sto ancora Registrando Sì Allora Yoshi Vediamo Un po' Io ho qualcosa Per tutte e due Ti adoro Asi Ok Regala qualcosa Anche al mio fidanzato Quindi questa cosa Mi sta Mi fa Simpatia Ecco Perché Mi raccomando Se lo incontrate Regalatevi sempre qualcosa Perché Lui ne ha La ricerca Che carino Dio Questo lo voglio mettere A quel cane Che mi ha Regalato Quell'altra ragazza Di prima Assolutamente Devo metterlo A quel cagnolino Lì Le altre Chiaramente Si stanno Scocciando Ma mi dispiace Ma Comunque Cioè Voglio dire Grazie anche a te Angie Perché mi ha fatto Un regalo Che mi può servire Quindi Grazie Penso che sta Giochiamo a nascondino Stiamo facendo i regali Tesoro Non possiamo giocare a nascondino Dopo in caso Giochiamo a nascondino Perasa da Caterina E Tia Grazie Anche Caterina E Tia Un bacione Poi Angie è ancora qua Perché sta facendo i regali Al mio ragazzo Quindi questa cosa Ok Michita Le altre Si stanno scocciando a morte Grazie Mi mancavano Ok Giochiamo a nascondino Fatto Perfetto Adesso C'è Giulia La Pizza Già fatto il regalo Quindi Ragazzi Aspettate Please Ciao De Dora Questa è per te Voglio dare anche Mia sorella Si chiama Tia Ciao Alla sorellina Di questa Ragazzina Che ci ha attaccato In collo Una patata Grazie Io Grazie Grazie tesoro Grazie 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 Veramente Tanto Grazie Grazie A Tutti vi amo grazie a tutti cioè ragazzi non c'è altra soluzione migliore che dire che vi amo perché è la verità perché siete veramente qualcosa di stupendo cioè veramente c'è poco da dire non si può dire altro Margie no è ancora regali ecco bene meglio no ragazzi scusate le famiglie no vi prego oddio per Asa da Roby ti voglio bene oddio no madre ci siamo di nuovo che io mi devo sentire in colpa di nuovo per la seconda volta io mi devo sentire in colpa ma non è colpa mia cioè ragazzi vedete che cioè mi state regalando pet ride cioè ragazzi io veramente ha declinato io devo andare ok ragazzi ciao andate non fa niente ciao allora io metto questo dov'è il mio cane ah e mi hanno regalato un gattino grazie tesoro equipaggiamolo e lo metto al mio cagnolino vai quando esce ok ragazzi raga facciamo una partita a nascondino nascondino e poi vado a montare il video marghi eccola di nuovo ma ok raga facciamo una partita a nascondino e poi vado a montare il video ah se andiamo sopra aspetta io mi vado a nascondere tra l'altro guardate quanto è bello il cane che mi ha regalato Roby ti adoro tra l'altro questa Roby è la vincitrice della scorsa partita a a nascondino chiaramente allora ragazzi non mi dovete seguire però cioè io mi nascondo ma non dovete questa bambina però se ne deve andare pure perché se no è ovvio che mi trova ragazzi mi sto nascondendo non seguitemi non seguitemi dacci un indizio come prima sì ok ma se mi seguono allora io mi andrò a nascondere dentro questo edificio mi andrò a nascondere dentro questo edificio ma non so dove anzi si so dove qua dietro ci entro no dove mi posso nascondere in questo edificio mi metizzo qua in me no troppo semplice raga dove mi nascondo aspettate c'è un problema ok qua perfetto fatto oddio ci sono un sacco di ragazze andatevene ok vabbè mi teletrasporto io in un posto perché se no va a finire che qua mi trovano tutte e nessuno mi cerca veramente veramente allora ci andiamo a nascondere qui ciao sono autofan asia vabbè abbiamo capito che non si può giocare quindi ragazzi basta basta giocare brava tu non hai barato tu non hai barato quindi saluto a marghi la vincitrice di questo marghi la vincitrice di questo gioco di oggi è marghi quindi saluto a marghi e niente ragazzi salutate il video che lo sto chiudendo salutate il video la intro finale la fanno voi ciao 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 iscrivetevi tutti ciao ciao ragazzi